ma è strutturato oh che vai vai viene un giotto di gioco giotto di gioco a godri a cagare quello di prima faceva vai tango a livello 20 no 102 dai raga un 102 abbiamo in squadra ora c'era 66 c'era 61 163 118 tutti questi gradi porco a due no se tengo ma fottuto Zofia Ale Ash Ale Ale Ash 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 no raga raga non mi fai scegliere l'operatore riavvia riavvia il gioco vaffanculo che cazzo oh Ibai riavvia il gioco no riavvia un cazzo eh sì anche dopo eh frate per tutta la partita riavvia il gioco dai dai da susano dai su riavvia il gioco va ah raga le tracce no mi diceva che avevo sbloccato solo due operatori lo so riavvia il gioco cioè Ash è cosa? è il bana riavvia il gioco no non voglio abbandonare che poi non mi fa più riconnetto è già successo una volta no si che te lo rifa perché devi fare eh è molto educatrice classificata quando non mi fa riconnetto lo so ma io dico che capi poi non mi fa cioè mi dice connessione è fallita ci è successo una volta vabbè no è in bagno camberato uno nasi hanno ti cazzico tu mi dico tu mi dico chi cazzo te zitana tu mi scusa abbiamo la recluta senza merino quindi c'è non potendo riavvia il gioco ma che dio va il gioco ma ti fide eeeh te riavviala ma non ti importa se la perdiamo o no la dobbiamo perderla questo è destino che la dobbiamo perdere si appunto dai su riavia il gioco sta in testa eh un po' che lì è di poco eh sta tutto da fuori poco davvero eh la ho fatto ha colpito mi sa valbbero la conferenza se saprà uno fate morte morte quella non sento sto filo di troia non sento sto filo di troia vediamo cedere il cuo E' un sacco di pezzellato, sto bene. E va, raviaggia, passiamo. Raviala, e va. no Mattio mi fa manco chiudere l'applicazione lo vai a chiudere la play e ci metto troppo tempo vai 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 riavvio no no Mattio non mi fa manco chiudere la play si no ma si mi fa manco chiudere la play no la play l'applicazione è bestia questo sono dei compagni incompetenti il tango è scarsissimo non scegliete l'operatore va dimmi quale operatori hai scegli operatori tutti 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 raga mi ha dato l'ultimo operator ok allora la banderia facciamo il trucco vale no no perché non ti vedevo il microfono non ti vedevo dai dai devo romper il culo raga devo romper il culo basta le strisce devo va non va recato eh lo tieni a bomberto è vero no porca levati dai ti senti che si tengono il filo va Voli tranquillo oh ninрывati non 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 ma ti rendi da là che deve tornare dietro dietro metti raga non parlate statevi zitti non mi ha saldito anora non mi ha saldito anora vaffanculo va che cazzo non ci andiamo a morire no come non detto sempre questo mi fa sempre questo ma ora sei giù ma che cazzo è andare su eh ma che cazzo è sto a far giro come vedi che da 40 metri mi uccide ma stai zitto stai ma io me l'hai chiesto stai zitto ora controllate le camera si va bene va bene va bene stai zitto stai stai zitto stai sono andranno non vorrei dire ma sono andranno Matti mira ci ha fatto Matti vai Matti posso? non posso bella Matti 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 ma c'è lo specchio? no non ci credo stai zitto Ale hai visto Matti non mi mirati se hai fatto quella mossa no non l'ha ammazzata oh tango tango non l'ha ammazzata non l'ha ammazzata raga vai farò sono sulle scale no qui lo è il c4 vero? si no mi scommetterei però non mi sono a me ma che cazzo a fare? no vabbè che cazzo a fare? è nabbo gobbio muoviti gobbio muoviti gobbio c4 non c'è andare non c'è andare gobbio se sulle scale gobbio no 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 che scemo che nabbo che era bella bella ha aperto il mira che nabbo dai su Ale dai erano sotto la malla dammi dammi Ash no Ash no zafia tango parco dio vai ti do il gono dai raga cazzo 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 impegnati c'è tango che è bravo anche impegnati eh? tango ci ha salvato la partita quindi dai impegnati anche te ah sì ma mi sembra un po' nabbo quello vai impegnati anche te ti dobbia stare gli altri impegnati vai 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 niente fa un dici un in torre mi sa pena in torre in in cazzo ma non ho preso la claymore code fag c'è grano in terra mario ti sto dranando non ce ne sono non sto dranando apprendo ecco quello il gorgolino cavera cavera raga vedete può evitare il gorgolino evitare il gorgolino orco 2 c'è uno lì bravo cogli vado a derota a derocam pazzo vado telecam faccio suona di telefoni no ferimento eh frate scusa ma chi sei un massardo che cattol me l'hai uscita benissimo vabbè io non fa niente vabbè io non fa niente non fa niente non fa niente sorry devo guardare un film eh guardate un film bene bene secondo me hai pigiato a chunk vai vai tachanka però dove ci mettiamo dormitorio davanti davanti come fai sempre dormitorio no tachanka dormitorio no tachanka noi troviamo è tutto loco è tutto loco c'è questo cazzo di nabu qua va dove lo metto va dove lo metto va 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 come va la me sentita si mi sentite raga? si mi chiamano parlare mi sentite raga ah mi sentite raga mi sentite raga Si è preso un po' di strezza, eh? Figlia il suono. Ma cosa ragona? Iiii! Ma cocri fermo, ma cocri fermo! Vado io cocri, vado io! Vado io! Mamma se sei stronzo! Guarda, lo sapevo, cocri t'avo detto! No, no, no tengo, no tengo! Vinta quanto loro lo isciatto! No! Aiaaa! Stavate da mare! Stavate da mare! Sta giù! Se la giovo il C4 non mi faceva una doppia! Stava fuori, l'ho ferita una! Mi sono andato a doppia la kill ma ha fatto l'altra! Ok! Aaaaaa apri qui! No, no, no! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Minca che sfiga! Eh, metti questa abbia persa! Beh, bravo! Goglino sta di dritto! Ovvio c'è sledge, è fuori! Ale, c'è sledge fuori! Dove è fuori? Eh, fuori, anche da lì! Sta fu... No, vengo! No, veramente aperto! No, ero dalla finestra! Eh, era chiuso, zio! No, no, Goglino stava indicato che era aperto la finestra! Spengilo, spengilo! Non parlo! Come stai faccio che mi trovo ne non parlo! Spengi, Goglino! Vabbè, spengilo! Destra! Destra, tango, destra! Ti entra, ti entra! Eh, ho detto destra? Spara, spara! Prefire, Goglino! Prefire, devi parare, prefire! Ci uscivi in prefire e te l'avevi fatto! Ah, ma la sei di vita! Che coglioni! Con questa cianca! Con questa cianca! No! Tanga! Che coglioni! Ah, mamma mia! Eccolo, metterlo! Eccolo, metterlo! Eccolo, metterlo! Raga, mi potrei prendere montagne, ma qualcuno deve venire con me! Doviamo andare! Raga dai, porto la squadra avanti! Perché io sono forte! Contento a te? Quattro di sorge! Quattro di sorge! Se cazzo è la rida! Ha-ha-ha, cercato da ridere! Qual c'è il terria, là? E' stringent, è stringent! E' stringent! E' stringent! E' stringent! Oh come qua qua? vai fate un mute nell'obiettivo 2 ce le sono per ora ma quello che segnali il babo e segnala mi una mano c'è la cavi e una mia la mia aspetta la raga guardatevi ho fatto via lo spavento mortacci ragazzi hanno frusto per caso eh ragazzi siamo bravi non mi sa di sì ma che non so andiamo qua oh è un posto testa ragazzi entrato dove sto ragazzi entrato per favore per favore potete venire come sta a destra mia cosa cosa sulle altre scherzi raga ma io la presentai con la revolver raga però raga non ci siamo eh non ci siamo raga ma io montagna e nessuno per venire con me ma lei è la squadra pazienza con te ma che cazzo ho pigliato a cianca no a pigliare gogoli che refettorio siete malati voi raga che refettorio raga raga che cazzo ha un luogo raga ma però bravo ragazzi dato il gioco dai raga dobbiamo spaccare il culo come non mai dai al culo però se quando muori per te io si perché te panni si da panni si ogni volta che muovi vabbè tu parli pure se non sei morto quina o o Ehi, ti matti, togli, ti matti, togli! Corri, mi stai facendo uccidere. Aia, ammazzia! Mi stai facendo uccidere! Icbessi! ragazzi a me sto cagando leggermente sotto stai fermo un po' qua stai un babbo no bravo stai un babbo shhhh devo entrare loro tonto vengono da corridoi armerie vengono da corridoi armerie zio ma non ho spettato adesso col pompa what tu tranquillo ce l'ho provata col pompa è stupendo ma ti devi rispondere no c'è ma non ho volerà la scuola l'ho provata Grazie a tutti. Grazie a tutti.